Mi occupo di New Media Design, di progettazione concettuale e grafica per i nuovi media, in un caso per la televisione e il web. Quindi mi asciò il, che è un montaggio di alcuni lavori che ho fatto nei due anni, che poi sono stati anche i primi due anni di attività lavorativa. Grazie a tutti.